Musica Ciao a tutti e a tutti Ciao a tutti e a tutti Benvenuti nel nuovo video e buone Feste A voi A voi e a noi Benvenuti nel nuovo video Come vi dicevo, no, non vi dicevo perché non ne ho mai visto Come vi dicevo Pazzo Nel questo video oggi vi mostreremo Due idee regalo Per Natale Curiosissime e particolarissime E magiche Ed in più vi mostreremo Due particolari Due parrucchini Per i vecchietti Non credo E ce ne accettiamo con un po' di saliva Come si fa Pupu Tata Vabbè comunque Non parliamo di queste cose Iniziamo subito con le idee regalo Super fresche Super fresh Super magic Una bella sfera di cristallo Dove leggere il destino Di quante cose Murgiterete a Natale Di Merci Henry Per scoprire quanti chili sarete Dopo Natale Si Un chilo e cinquecento In più In più E certo In questa piccola bowl Che ci è stato Certo Che sta dicendo questa bambina In questa piccola bowl Ci sono tre gel Igelizzante Anzi Gel per le mani No Gel utilizzante Per le mani No Questo prodotto Ci è stato Gentilmente offerto Da Merci Hande Italy Italy Grazie mille cari Grazie I love you Merci Hande Noi stra-amiamo Queste cose Vi ricordiamo che Questi prodotti Che vi mostreremo Saranno presenti Saranno presenti Sia Sul sito Merciand.it Sia In tutti i negozi Sephora Ad un prezzo Di Sephora L'hanno capito Ad un prezzo Di 10 euro Questa viene 10 euro Ed è Particolarissima Poi se lo volete Far a me 20 euro Apriamo 10 a te 10 a me Ok In sottofondo C'è Bebine Si che ride Ha visto Qualcosa No Io ho messo Il libricino In testa È bella Come è bella Trilli Ok Apri questa Ball Questa ball Questa ball Questa ball E Sono Bellissimi Sono Fantastici La cosa particolare Di questi prodotti È che sono Criverti free Ovvero Non vengono testati Sugli animali Quindi Questa cosa È ok Non ci piace Perché Non testate Le cose Sugli animali Sono vegani E in più Pure io sono vegana Allora Contengono Aloe vera Contengono Aloe vera La cosa particolare Adesso vi sto facendo vedere Una preview di questi È che hanno delle piccole Particolari Palline All'interno Che Rilasciano Un profumo Bellissimo Allora Questo è Sacred Hype Questo è MoVibes 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 Moon MoVibes E questo è Magistone Ci stiamo positi Magistone Senti che dora Oh guarda qui quest'altro Guarda questo è bellissimo Oh guarda questo è bellissimo Hanno un odore molto MoVibes è il più bello Secondo me Hanno un odore molto bello E questo? Molto profumato È molto fresco Una frescura Guarda sorella Guarda come odore Erano le mie mani ora Guarda E piano Non mettermelo nel nasetto Qui abbiamo anche La piccola Un medicino Si Che è Una fragranza Di estratti Di Di bagliore nullare Moon Vibes Sacred Hype Invece è una fragranza Di agrumi mistici E infatti Infatti Si sentiva Magic Sony Una fragranza Con estratti Di Allora Idea regalo di quest'anno Un po' di occhiali a Francesca Lurani Ok Ma io ce l'ho Ma solo che ora Mi fanno i riflessi Dentro alla Telecamera Quindi Gioielli magici Wow Un idea regalo Anche molto originale Anche la sei Ok E poi tra l'altro Tra l'altro Il packaging È veramente Molto molto particolare Si Lo era Almeno Quando Bebedesi Non lo toccava Non lo toccava Ma a palaforna? Ah Non è andato Laggiù Niente Ci sono tre Piccoli Spazietti Dove inserire E dove esporre I vostri gel Igenizzanti delle mani Una volta rimossi il gel Della sfera Riempila con i tuoi Tre oggetti preferiti Per esempio Il tuo Pins Chell'indon Bernard Il tuo Procione Animale domestico Capelli di Leoporno Richiudi La sfera Cioè io Non è un bruciore Ah forse si Eccolo Poi Chiudi gli occhi E canta Il seguente Incantesimo Con la melodia Di tua scelta Posando le mani Sulla sfera Di distallo E sollevando La testa Al cielo Ali 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 Facci Ali 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 Facci Ali 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 Chi vedrà il tuo futuro Di testa Sulla pere della sfera Di distallo Ah si Mi sembra Guarda cosa fatti Super d'è Ali Ali Culiculiculiculic Il prossimo La prossima idea Regalo Che potremmo fare Ad una persona Molto Amata Molto Desiderata Molto Fregata Certo Adavote Imi armi Sempre restando In tema Merci Candy E sempre Restando in tema Confezioni Della serie Confezioni Bellissime Diversine Abbiamo questo Cubo della Vegenza Ecco In questo Cubo della Vegenza Vediamo Subito Il nostro Futuro Vediamo Mia sua tela Come sta Dal cesto Domani Bella Cosa vuoi dire Basta Allora In questo Quadrato In questo Si apre Così In questo Cestino Della meraviglia Cubo Cubo Ci sta Possiamo trovare Uno stick Per le ascelle Per farle Puzzare Uno Smettila Smettila Questo Prima di tutto È un Deodorante Per farle Puzzare le ascelle Questo È una crema In tante mani Tattate E Il gel Igenizzante Mani Tutti e tre Eh Latti Bacca Le coppavano Tutti e tre Sono Alla Fragranza Namaste Che si chiama Namaste Secondo me Best seller Del gel Igenizzante Per le mani Di Merci Andy Perché L'altra volta Anche l'abbiamo provato Ed è veramente Qualcosa di Promatissima In più Namaste Abbiamo provato Anche Gli sciampi secchi Per i capelli Gli sciampi secchi Per i capelli Non so se te li ricordi Quegli piccoli Sì 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 bellissimi E' una sera Quello dei tre Più belli Io adoro quelli Io le adoro Intanto Bebidei si fa La faccia Abbiamo tre prodotti E questi sono disponibili Sempre da secola Al prezzo di 15 euro 15 euro Tre prodottini In più Anche la scatola Bellissima Che vi troverete Infatti guardate Anche Si trova all'interno Anche un piccolo giochino E questo giochino È un gioco di capo Come conoscere Il tuo futuro E lo facciamo Subito insieme a voi Allora Stacca le carte Pretagliate dalla scatola Così da formare Un mazzo di carte Ci siamo rintagliate Tutte le carte Della veggenza E adesso Siamo pronte Per iniziare Questo gioco Mettere carte A faccia in giù Sul tavolo Sui lati Dei simboli Nell'ordine dettato Dalla voce Della misteriosa Scegli carte In cui i simboli Fanno pensare Al tuo futuro Ok Allora Allora io scelgo Io scelgo Il tempo Con le rune E Tu hai preso il sole Che Significa per te Che arriverà un anno Dove avrai molte Interazioni con le altre persone Ok Ho scelto la carta della luna E quindi E' la carta dell'intuizione Della chiave di genza Nel 2020 Si avverrà con Si avverranno per te Le porte dell'invisibile E del subconscio Tu potrai finalmente Scoprire Durante una mistica visione Dove Una passione inesplorata Presta l'indion Presta l'indion Fa boiare Ma chi è stasera? Il sole Tu hai scelto il sole Ah ma in inglese Si No non hai scelto il sole Hai scelto la meridiana Cioè Che significa che nel 2020 Tu dovrai essere paziente L'unico modo per te Di velocizzare le cose E che non Non possono aspettare E Dovrai tipo Sentire qualche canzone Degli anni 90 Certo Ti sentirò Dai Funziona ogni volta Ah ok Questo E poi L'occhio L'occhio ma l'occhio Per il servono al finocchio Hai scelto l'occhio Un Un Charm Un charm Come si chiama il charm In italiano Un charm Un charm Un charm Un charm Un charm Un charm Che guiderà Gli spiriti malvaggi Wow Che succede che un alpaca Schizofrenico Ti attacchi Tu dovrai Mettere questo Non lo appresso Si Ritaglio Ce ne sento la Non lo sarai Riparata Ok Che belle cazzo E questi qua Si Beautiful Ok E l'ultima Cosa che vorremmo Farvi vedere Vado a prendere La balletta si alza E va a prendere Prego ballette Prego Belletta Ah ma no Voglio Caccio cavalli Caccio cavalli La mia è questa La mia è questa Certo 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 Allora La mia è questa qui Ma che ci facciamo Con due parrucche Ecco i parrucchini Allora A parte che Questa potrebbe essere Un'idea regalo Per i cosplayer Si infatti Per chi ama Bellissima Fare la mandira Ma potrebbe essere Anche una bellissima pensata Per Per andarvi a travestire Da babbo natale Con la parrucca piotta E farvi vedere Per lì Fantastiche Diventerete fantastiche Con questi capelli Certo No a parte scherzo I capelli sono Provengono i capelli finti Le parrucche finte Provengono dal sito Donalove Kids Kids Donalove Donalove Hair Hair Ok Allora Come leggete anche qui Questo è il nome del sito Vi lasciamo anche Il link Nell'info box Per le nostre parrucche Ecco Questa è la spazzola Vi lascio gli nodi Che Che riceverete Quando riceverete Una delle vostre parrucche Una delle parrucche Di Malove Hair E vi lasciamo anche Il codice sconto Del 25% Sul primo acquisto Che è Il primo acquisto Quindi Non appena siete nel carrello Inserite questo codice sconto Allora No dobbiamo far vedere Quindi Come mettere queste parrucche Perché le parrucche Non le potete mettere Ragazzi Non pensate Perché Non le potete mettere La parrucche Ma la sapete Ma stiamo scherzando Io l'ho messa così Guardate E le ho attaccate Come L'ho detto io No A parte scherzo Sono veramente Parrucche di qualità Anche perché Guardate qua sotto Che c'è C'è un armamentaio Per farvele mantenere In testa Ottime Si Perché Se fate così Tipo La fai la carrà Non vola via E soprattutto Non si vedono Le attaccature E poi Quando ve le mettete Gli archipiastrare A Fine a 110 gradi Possono essere Messe in piega Con una piastra Certo Quindi Il top del top Adesso le indossiamo E proviamo a fare Una qualche cosa Un ballo Allora Non so Non so Vi uscirà La pratica Spazzo Lascio gli nodi Ma Vi uscirà anche questa cosa Che ve la fate in testa E fate la rapina Vi uscirà Così Riuscirà anche la calza Quella dei Dei lapitori Di Un po' di banche Rapitori di banche E Poste Quanta gioia E felicità E felicità No veramente Facilmente Vedete Inserite tutti Capite all'interno Non fate in modo Che si vedano I vostri capelli Che altrimenti Si scoprono trans La cosa particolare Di queste parrucche È che hanno anche Dei piccoli Dei piccoli Pezzi di stoffa Sì Dei piccoli Così Dei piccoli pezzi di stoffa Che Vi permettono di Bloccarla Con questi due pergetti Allora Facilmente Si possono acconciare Infatti Sono proprio Proprio lisci Proprio Proprio Lisci Però Penso che esiste I miei capelli Sono bellissimi Mi piacciono Mi faccio così La prossima State Ok Questa qui Come potete vedere Ha una ricca crescita Con il nero Che va dal nero Grigio A rosa La mia È tutta bionda Con le punte rosa Come una zoccolola Poi sono anche lavabili Con acqua e sapone Semplice Veloce E non ve li pentirete Mettiamo anche i fiori natalizi Cosa Si sta Si sta Mettiamo anche i fiori natalizi in testa Si stanno Sorella Si mantengono Una storia in diretta Una storia in diretta Si No Comunque sia Pratiche veloci Vi lasciamo tutti I link Qui sotto Nell'info box Se vi piacciono le parrucche Le andate a prendere Su questo sito Ok Vi lasciamo qui sotto Con un codice scondo Scondo Però E niente ragazze Prima di abbandonarci E la storia di questo video Vi ricordiamo di Seguirci sulle storie di Instagram Su Facebook Su Vabbè Su questo Canale Iscrivetevi E Attiva la campanella Per non perdervi Nemmeno Un Seguro video Ovviamente noi In questo periodo Li stiamo pubblicando Nel weekend Perché In settimana Siamo molto più occupate Che nel weekend Siamo nei prossimi video E quindi Un bacino Un bacino E buone feste a tutti Come fa Gav Questa marco Un bacino